Ok, terza prova, c'è qualcuno con me? E' un nuovo registrato, ok? C'è qualcuno qui con me? E' un nuovo registro, non lo vuoi comunicare, mandare un messaggio, cosa sta sempre con un nome, è che non lo vuoi. Spirito guida è possibile interagire così alzo un po' il volume è stato un po' il volume grazie infinite della vostra pazienza e buon cuore grazie stop 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 stop